La gestione dei rifiuti sindaci dei 15 comuni della SRR Catania Provincia Nord si rivolgono al prefetto e non escludono eclatanti azioni di protesta. Carnevale di Acireale, l'omaggio a Dante del cantiere Ardizzone vince l'edizione 2022 per la categoria B Migrazione del destino, il volo della vita. Calcio, serie D, l'Acireale cade a Paternò, per il Giarre è tutto facile, invece è Biancavilla. Bentrovati, buon inizio di settimana con il nostro TG Reporter, tra gli altri argomenti, riflettori ancora sul sisma di Santo Stefano, casse e sanatoria dei piccoli abusi, sono stati i temi maggiormente trattati ieri a Pennisi durante l'incontro dei terremotati del sisma appunto di Santo Stefano. A Gianre, stamane, il ministro per le pari opportunità Elena Bonetti, celebrata la giornata della riconciliazione della memoria, per ricordare Giorgio Ettoni. Tornano le grandi feste dopo la pandemia, tra Castagne e Lentini, ma anche Acireale, festeggiano i Santi Fratelli Martiri, Alfio, Cirino e Filadelfo. Questo è altro all'interno del nostro giornale, ma in primo piano i costi insostenibili lamentati dai sindaci dei 15 comuni della SRR Catania, provincia nord, che va da Acireale a Randazzo, passando per Giarre e Riposto. I sindaci preparano la protesta. Igena ambientale, smaltimento dei rifiuti nel territorio di competenza della SRR Catania, provincia nord. Di settimana in settimana l'attività gestionale da parte dei comuni è divenuta sempre più difficoltosa, tanto ad avere spinto i sindaci dei 15 enti che ne fanno parte a prendere posizione con il prefetto di Catania, affinché si possa sbloccare una situazione la quale, anzi, potrebbe persino aggravarsi ulteriormente. L'organo direttivo, composto in qualità di presidente da Vincenzo Caragliano, sindaco di Riposto, Ignazio Puglisi, come vice e dal primo cittadino 10 Reale, Stefano Alì, in qualità di consigliere, hanno perciò, in maniera opportuna, con il supporto di tutti gli altri colleghi, deciso di coinvolgere in prima istanza la prefettura di Catania. Al fine di trovare una soluzione per una doppia problematica che sta mettendo alle corde tutti i vari comuni, dai più piccoli a quelli più grandi. Non vengono escluse anche proteste, nelle ipotesi di un mancato riscontro alle questioni sollevate. La parola quindi al sindaco acese Stefano Alì. Abbiamo chiesto un incontro al prefetto per descrivere, coinvolgendo, con la richiesta che il prefetto coinvolga anche l'assessorato regionale ai rifiuti, al direttore dei rifiuti, perché la situazione e la raccolta dell'indifferenziato sta diventando drammatica, sia da un punto di vista economico, perché il prezzo continua a lievitare. Adesso siamo a più di 400 euro a tonnellate, fino a qualche anno fa eravamo a 180 euro a tonnellate, quindi questo è un costo che si ribalta sui cittadini, perché è legato alla mancanza di impianti e quindi i rifiuti, la raccolta indifferenziata viene portata fuori dalla Sicilia, cioè noi esportiamo rifiuti, che è una cosa assolutamente inaccettabile. E l'altro aspetto, che anche questo è drammatico, è i limiti che vengono posti da Sicula Trasporti, che è l'azienda a cui noi conferiamo, che limita la quantità di rifiuti che possono essere conferiti, quindi questo crea problemi perché i rifiuti restano sui camion e non possiamo procedere alla raccolta anche degli altri materiali perché i camion non sono impegnati e questo crea problemi anche di disagio per i cittadini, di rischio ambientale e su questo chiediamo che ci sia un'attenzione da parte della Regione e dare una soluzione sia economica sia di logistica. Spazio adesso alla cronaca nera, un pusher è stato arrestato a Catania dai carabinieri durante dei controlli effettuati nel quartiere San Cristoforo, si tratta di un 39enne catanese accusato per spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo è stato trovato in possesso di sette dosi di marijuana, in uno stabile invece ritrovata dai carabinieri una pistola a tamburo con matricola cancellata e 24 proiettili calibro 38 special. L'arma rinvenuta sarà inviata al resse di Messina per gli accertamenti tecnici del caso. L'autorità giudiziaria intanto ha convalidato l'arresto del 39enne disponendo la sottoposizione agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. E torniamo invece a parlare dell'aggressione nei confronti del giovane spinto a terra mentre era a bordo del suo monopattino, mentre percorreva la pista ciclabile del lungomare di Ognina a Catania. Lo scorso sabato, come ben sappiamo, sono stati identificati e denunciati due minori autori dell'aggressione, operazione che è stata salutata con soddisfazione dalla Codacons che ha chiesto al Ministero dell'Interno di poter intervenire con più forze dell'ordine. I fatti suscitano un grave allarme sociale, si legge in una nota del Codacons, i giovani hanno voluto celebrare il loro gesto attraverso un video divenuto virale sui social per compiacersi delle loro azioni. Il Codacons accoglie così l'appello lanciato dal prefetto di Catania, Maria Carmela Librizi, chiedendo una sinergia di azioni, di altre componenti, psicologi, sociologi, associazioni di volontariato, in grado di intercettare il disagio dei ragazzi e mette a disposizione i propri esperti per arginare il fenomeno. Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato la scorsa notte lungo l'autostrada Messina-Catania nel tratto compreso tra Giarre e Acireale. Il conducente di una Volkswagen, probabilmente a causa della pioggia che ha reso viscido l'asfalto, ha perso il controllo della sua vettura andando a sbattere contro il guarda rail. Sul posto i sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale, i vigili del fuoco di riposto, intervenuti, hanno poi messo in sicurezza l'auto e il tratto stradale. Il tutto è successo intorno alle 3.30 del mattino. Cass e sanatoria dei piccoli abusi, questi i temi trattati ieri a Pennisi durante l'incontro dei terremotati del sisma di Santo Stefano. Se ad Acireale, come annunciato giorni fa, è stato dato il via ai mandati dei pagamenti relativi al contributo di autonoma sistemazione per un totale di 150.000 euro, vi sono comuni dove ancora il contributo stenta ad arrivare per via di intoppi burocratici. Tra questi comuni vi è Zafferana e questo è stato motivo di incontro ieri nella piazza di Pennisi con i terremotati del 26 dicembre del 2018, insieme ai presidenti dei comitati e il coordinatore di questi, Giuseppe Zappalà. Durante l'incontro sono emerse le differenti modalità di erogazione del CAS tra i vari comuni. Mentre ad Acireale sono state già erogate il mese di novembre-dicembre 2021 e i primi mesi, quindi gennaio e febbraio del 2022, Zafferana stenta ad erogare il saldo del 2021. L'amministrazione si giustifica dicendo che il ritardo è dovuto allo switch off della credit agricole su banca presso la quale hanno la tesoreria e che a breve comunque arriveranno nei conti dei terremotati i mesi di novembre-dicembre. Un contributo a sostegno di coloro che hanno subito gravi danni alle proprie abitazioni, al momento è costretto a pagare un affitto in un'altra abitazione. Altro punto affrontato nel corso dell'incontro ieri, la sanatoria dei piccoli abusi che ha fatto scaldare gli animi dei presenti. A spiegarlo lo stesso Zappalà lanciando un appello. Durante l'incontro è bastato introdurre l'argomento sanatoria dei piccoli abusi per far scaldare gli animi ai terremotati presenti, in quanto hanno manifestato la loro grossa difficoltà nel proseguire l'iter della ricostruzione a fronte di istanze presentate già da tempo. Ricordo che qualche tempo fa il commissario Scalì aveva lanciato un appello ai parlamentari del territorio affinché si facessero portavoci e facessero comunque da tramite per far sì che la legge oggi applicata nel terremoto del centro Italia fosse estesa integralmente al nostro territorio. Anche noi come coordinamento dei comitati ci uniamo a questo appello e vogliamo far sì che si eviti una situazione in cui il cane si morde la coda, come ad esempio la questione dei certificati di donità statica che a fronte di una inagibilità senza un preciso provvedimento non possono essere superati. Adesso ci fermiamo, linea alla pubblicità, torneremo con tutti gli altri argomenti. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6 incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale vicino alla biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Dato Marchi Ottica e Fotografia Oxo ad Aci Reale, una straordinaria promozione vista e sole. straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Aci Reale in Corso Italia 18A e B. Buona visione. Regolamento interno al punto vendita. Control Tech. Professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti. Riparazione e vendita accessori informatici. Risme di carta. Cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech. Elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è a Daci Sant'Antonio in via Vittoria Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani. Se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30-20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione, solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani. Nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Da Home Store c'è aria di primavera. Home Store. Su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea home con nuovi meravigliosi arrivi di accessori per la casa. Fiori, tendaggi, elementi di arredo. L'abbigliamento per la primavera-estate. Uomo-donna-bambino. Un grande assortimento di calzature. Un intero piano dedicato all'intimo e agli accessori. Una favolosa scelta di abiti per cerimonia per tutte le età ed eventi. Home Store. Ad Acireale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Ampio parcheggio. Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una 4x4 per arrivare ovunque? Una sportiva tedesca? Un'ibrida per le avventure di ogni giorno? Quando quello che vuoi è tutto. Nuovo Opel Grandland Hybrid Plug-in. Be yourself. Get everything. Concessionaria Opel G d'Auto. A riposto sulla strada statale 114, km 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Carnevale di Acireale, in apertura di seconda parte, è andato in archivio. L'omaggio a Dante dell'Associazione Ardizzone ha vinto l'edizione 2022. Il viaggio di Dante nella Divina Commedia passando la selva oscura per arrivare fino al paradiso. Il disorientamento e lo smarrimento dell'uomo raccontati in chiave allegorica grottesca dai maestri caristi dell'Associazione Ardizzone, vincitori dell'edizione 2022 del Carnevale 10 Reale, con il carro selva oscura per la categoria A. Un omaggio a Solmo Poete in occasione dei 700 anni dalla sua morte. La cerimonia di premiazione ieri sera sul palco di Piazza Duomo, dove a consegnare il premio è stato il sindaco Stefano Alinzi, ma il presidente della Fondazione Carnevale 10 Reale, Gaetano Kundari, e l'assessore al turismo, Fabio Manciagli. Un weekend, quello appena concluso, ultimo della manifestazione, contrassegnato dalle instabili condizioni meteo, che ha in parte influito sulla presenza di pubblico lungo il circuito, ma atteso per conoscere i carri vincitori sia per la categoria A che per la categoria B. Filo dei nominatori in quasi tutti i carri, il richiamo alla pandemia, piuttosto evidente in quello gatta C-Covid, giunto secondo in classifica, a cura dell'Associazione Culturale Principato Cavallaro. Il coronavirus, raccontato in una serie di figure allegoriche, dalla veggente americana Silvia Brown ai pipistrelli ai gorilla, con l'omaggio infine agli operatori sanitari, che nei momenti clou della pandemia hanno fatto sforzi in mani per salvare vite sotto la protezione dell'angelo San Raffaele. Terzo classificato, i tartassati dell'Associazione Scalia Fichera, il cui titolo già si rifà al noto film con Totò, un popolo massacrato da tasse che fa fatica ad arrivare a fine mese, ma nonostante tutto non perde il patriottismo e riesce a risorgere dalle ceneri. Quarto classificato, incanto dell'Associazione Cama, la società occidentale che si sviluppa traendo le sue origini in Italia, che ha dato in Italia uomini che con il loro ingegno hanno inventato e creato l'architettura, la musica, l'ingegneria e quant'altro. A chiudere, la categoria A, al quinto posto, i colori, le luci e le figure allegoriche del caro Lombra Cinese, che prende spunto dal filosofo cinese Confucio, e dove ancora una volta la pandemia ritorna, raccontata attraverso la leggenda delle tre ninfe. L'attesa era rivolta anche per i carri di categoria B. Primo posto per l'Associazione Coco ditta Spinosa con Migrazione del Destino, il volo della vita. Le migrazioni verso un nuovo paese e una nuova vita per inseguire i propri sogni, raccontati tramite i luoghi simboli italiani e altri, che ne richiamano gli affetti, i sentimenti. Secondo classificato, di che colore sei? Il tema del razzismo in un mondo iperglobalizzato che mette a confronto ogni giorno persone diverse per etnia, cultura, religione e costumi. Terzo classificato, distanti ma uniti a cura dei caristi dell'Associazione Culturale MSM. Il cavallo di Troia, trainato da quattro ruote, volto a simboleggiare tutte le pandemie che in Europa si abbatterono per essere poi sconfitte. A chiudere la classifica per la categoria B con un quarto posto, infine una vita da precario dell'Associazione Culturale Amico. La precarietà nel mondo del lavoro, l'affidarsi alla MAGA per leggere il futuro dei giovani, non dimenticando che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E a conclusione della manifestazione registriamo i primi suggerimenti. Non vogliamo creare polemiche ma qualcosa va rivisitato, scrive il presidente dell'Associazione P maiuscola, Alfio Di Grazia, che si richiama al ticket di ingresso al circuito. L'importo visto come risorsa per finanziare il carnevale non deve essere elemento di esclusione per chi non possiede risorse economiche tali da poter partecipare, assistere alla manifestazione carnacialesca. Non ci si deve meravigliare se per qualche famiglia il ticket di 5 euro non dà la possibilità di poter assistere alla manifestazione, sostiene l'Associazione. La crisi economica post pandemia e i salari mensili bassi sono elementi ostativi per molti nuclei familiari che non consentono di poter prendere parte ad una manifestazione di tradizione popolare. Occorre quindi, secondo l'Associazione, rivedere al ribasso l'importo per ridare slancio al carnevale di Acireale. E sempre a proposito di carnevale, per troppe settimane la città è stata riempita di transenne creando ulteriori difficoltà alle persone con disabilità. La denuncia è del garante per i diritti delle persone con disabilità. Per i soggetti con disabilità la conclusione del carnevale di Acireale rappresenta una liberazione. E' successo infatti che, per ben tre settimane consecutive, le transenne utilizzate per regolamentare gli ingressi lungo il circuito nei fine settimana hanno invaso marciapiedi e diversi altri punti della città diventando delle barriere architettoniche vere e proprie tutti i giorni. I varchi, le transenne, improvvisamente la città è divenuta inaccessibile per i disabili accesi e non solo. Un disagio di cui si è fatto portavoce Giulio Pugliatti, che da tempo tiene alto l'interesse per la disabilità in città. Pugliatti ha interpellato il garante dei diritti per le persone con disabilità, il dottor Riccardo Castro. Ho avuto modo di notare in prima persona, ma ho ricevuto anche diverse segnalazioni relativamente alla presenza di transenne sui marciapiedi della nostra città durante il periodo carnascialesco, soprattutto durante la settimana. Questo comporta enormi disagi a chi ha una disabilità motoria, a chi deve transitare in carrozzina, ma anche a mamme con i passeggini. È una cosa che non posso accettare, che non determina una vivibilità nella nostra città e quindi le invito a valutare attentamente questo aspetto che chiaramente non dà un buon segnale, soprattutto per una problematica molto importante, quale è appunto la disabilità. Per tre weekend di carnevale, rincara la dose Giulio Pugliatti, a Cireale è stata una città impraticabile, da via Ruggero VII al centralissimo Corso Umberto, transenne a gogò sui marciapiedi della città e, sia chiaro, non si parla dei fine settimana della Kermesse, ma di tutti i giorni. E non mi si venga poi a parlare di abbattere le barriere mentali, aggiunge Pugliatti, perché qui così si installa un pregiudizio ben più grave. Ci si faccia un esame di coscienza e si ammetta di non aver neanche considerato la questione, a conferma della inefficienza su certi temi da parte di chi oggi rappresenta questa città. La scarsa attenzione riservata, ci aggiunge e conclude Pugliatti, che vanifica e distrugge tutte le iniziative di sensibilizzazione sul tema, portate avanti da anni. Si è parlato di turismo sostenibile e dello stato di avanzamento del progetto Men Italia Malta nel corso di una riunione tenutasi a Siracusa, presieduta dal sindaco Francesco Italia. Il comune di Acireale, capofila del progetto, era rappresentato dall'assessore agli affari istituzionali Mario Di Prima e dal direttore generale del GAL Terre di Aci, Anna Maria Privitera. Il direttore Privitera in particolare ha posto l'accento sulle informazioni tecniche del progetto che mira a realizzare una rete stabile per i due territori e ha concluso annunciando che il partner maltese sta ricercando le imprese per ospitare i ragazzi selezionati nell'ottica di una partenza dei primi gruppi già dalla metà del mese prossimo. A Giarre stamane il ministro per le pari opportunità Elena Bonetti celebrata la giornata della riconciliazione della memoria. Per ricordare Giorgio e Toni. Il 31 ottobre del 1980 due corpi vennero rivenuti senza vita in un abbraccio d'amore sotto un pino marittimo nelle campagne di Giarre. Erano il 25enne Giorgio Agatino Giammona e il 15enne Antonino Galatola. Tutti in paese li conoscevano come i Ziti, un delitto che scosse le coscienze e la cui immediata conseguenza fu la costituzione dell'Archigay. Da allora tante cose sono mutate, ma tanto ancora c'è da fare. Stamane a Giarre un grande evento ha celebrato la memoria di Giorgio e Toni. Allora è stata dedicata una targa, disvelata dal sindaco, dell'amministrazione comunale, dal ministro delle pari opportunità della famiglia Elena Bonetti, dal sottosegretario di Stato all'interno Iva Scalfarotto e dal prefetto di Catania Maria Carmela Librizi. C'è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta. Nel segno del percorso che in questa comunità si è fatto, dopo 42 anni, quel delitto, quella inaccettabile violenza, diventa e si trasforma nell'impegno di un intero paese per non solo rendere memoria a questi due ragazzi, a Giorgio e Toni, ma per far sì che da questo memoria arrivi con chiarezza per il nostro paese l'affermazione davvero mai più. La lotta contro ogni forma di discriminazione, di violenza nei confronti delle persone LGBT è oggi un impegno del paese, lo è certamente nella necessità di dare seguito ad un impegno che contrasti con ogni forma l'omofobia e la transfobia, ma altrettanto lo è nella costruzione di politiche attive che prevengano questi fenomeni attraverso un'educazione al rispetto delle diversità e all'inclusione. Ricordiamo a Giarre due ragazzi che loro malgrado sono stati due simboli, in un certo senso due eroi, due persone che hanno perso la vita per affermare la propria identità e per cercare la loro felicità. Il fatto che l'amministrazione comunale di Giarre li ricordi in modo così solenne significa che la città si riappropria di due figli che hanno avuto un ruolo importante, perché poi dopo la morte di Toni Di Giorgio il movimento LGBT italiano di fatto è partito. Penso anche che sia un giorno importante perché ci dice anche che l'Italia è cambiata, non soltanto Giarre è cambiata, ma l'Italia è cambiata in meglio e questo è successo grazie al lavoro di tante persone. Dopo 40 anni Giarre si riappropria e riconosce due figli che si sono amati alla fine. Sono molto contento della presenza del Ministro alle varie opportunità, del sottosegretario all'interno. ci qualifica, questa amministrazione è attenta a queste problematiche e ritengo che Giarre sia matura perché avvengono queste cose. Una giornata memorabile, una giornata che segna la storia della nostra città e non solo la storia della nostra città. Oggi abbiamo l'onore di ricordare, ma soprattutto di segnare un momento. La città riabbraccia e riaccoglie, grazie a Francesco Lepore e al libro Il delitto di Giarre, abbraccia e accoglie Giorgettoni e alza il livello del dibattito, parla di diritti, di cultura egalitaria grazie alla presenza dello Stato. La lapide per Giorgettoni resterà nella città e parlerà alle giovani generazioni. Subito dopo ci si è spostati al Cineteatro Garibaldi dove alla presenza degli studenti degli istituti scolastici giarresi si sono alternate testimonianze e la presentazione del libro di Francesco Lepore Il delitto di Giarre. All'inizio venne anche negato, possiamo dire, anche dalla famiglia questo delitto. Sì, assolutamente. Dopo, posso dirlo con un senso anche di soddisfazione a livello giornalistico, dopo 40 anni finalmente si è resa verità e giustizia a Giorgettoni. Io ho avuto modo di essere qui un'intera settimana a Giarre e di poter incontrare amici di Giorgettoni, di poter incontrare Padre Diego Sorbello e il parroco che avrebbe voluto celebrare all'epoca i funerali in maniera congiunta ma non potette, di poter incontrare quel magistrato Foti che per primo sollevò dubbi sull'inchiesta condotta dal pretore assennato e di incontrare anche la sorella di Toni e la nipote. Cambiamo decisamente argomento. Dopo la pandemia tornano le grandi feste. Tre Castagni, Lentini ma anche a Cireale festeggiano i fratelli martiri Alfio, Cirino e Filadelfo. Domani la Sicilia festeggia i santi fratelli martiri Alfio, Cirino e Filadelfo. Dopo le restrizioni legate alla pandemia tornano le grandi feste di Tre Castagni e Lentini mentre a Sant'Alfio la festa si è svolta domenica primo maggio come da tradizione la prima domenica di maggio. A Tre Castagni ritorna la sentita festa dopo due anni di sospensione legata alla pandemia. Già da questa notte molti fedeli giungeranno a piedi a rendere omaggio ai tre santi nel santuario e sempre questa sera in programma la tradizionale entrata dei cantanti e lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 13 l'attesa uscita dei santi che sul fercolo percorreranno le strade di Tre Castagni. Anche a Cireale ha un antico culto per i tre santi che si venerano nella basilica dei santi Pietro e Paolo. Da qualche anno grazie alla confraternita di Ia Cireale e dei Santissimi Fratelli Martiri retta dal maestro Carmelo Falcotti, si organizza una festa in attesa di ripristinare la processione con i simulacri dei tre giovani martiri che si svolgeva in città nei secoli scorsi. Questo culto ha da Cireale molto antico e risale già al XVII secolo come testimonio è una tela di Giacinto Platania della fine del Seicento presente nella basilica di Piazza Duomo. Il culto verso questi martiri ha conosciuto momenti di splendore e dopo l'ultima festa esterna del 1953 ha iniziato un lento declino che stava portando all'estinzione della confraternita ritornata attiva negli ultimi anni. Le celebrazioni liturgiche di quest'anno prevedono la festa della memoria del martirio in programma domani alle 19 con una messa preseduta da Don Vittorio Rocca referente diocesano del Cammino Sinodale con la partecipazione del capitolo collegiale della basilica delle confraternite e delle associazioni. Domenica 15 maggio la tradizionale festa accese nel giorno della devozione cittadina con la processione dei simulacri sul sagrato della basilica dopo la messa delle venti preseduta da Don Salvatore Garozzo parroco della parrocchia Santa Maria del Carmelo di Acireale. Con i tre santi posti sul sagrato della basilica sarà eseguita la cantata composta dal sacerdote Antonino Mauggeri e al termine sarà impartita la benedizione con la reliquia. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, nella terza parte la pagina corposa come tutti i lunedì dello sport. Scalia Musmarra Scalia Musmarra, ricercatori di stile Siamo specialisti per l'abito uomo e la camiceria vestiamo le grandi occasioni riservando particolare attenzione per i papà degli sposi garantiamo per l'uomo di ogni età e misura il massimo dell'eleganza e dello stile anche se sceglie il casual. Musani, Duca Visconti di Modrone, Tirardelli, Ingram, Liugio, Cassera, Marzullo firmano, insieme al buon gusto di personale specializzato, la vostra eleganza. Scalia Musmarra, piazza Duomo 23, Acireale Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio l'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi quella elegante per le grandi occasioni Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'auto noleggio Miami niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità con una piccola cifra giornaliera senza carte di credito né cauzioni vado, faccio benzina e torno chilometri illimitati Auto noleggio Miami auto, furgoni, auto per cerimonia vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla cittadella del Carnevale informati e prenotati allo 095 826 4155 o presso i nostri uffici in via Vittorio Emanuele II 41, piazza Carmine, Acireale Se volete comprare un'auto nuova prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta Garozzo SRL autorizzato Renault e Dacia a Daci Reale venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate vi garantiamo finanziamenti agevolati attuazione dell'offerta in atto dalle case madri servizio assistenza ricambi ed accessori originali vettura sostitutiva in sede Garozzo SRL autorizzato Renault e Dacia a Daci Reale in via Loreto Banatelle 144 per qualsiasi informazione 095 76 51 805 la tua salute è importante affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione Farmacia Gallo del Dottor Orazio Gallo da noi potrai trovare un vasto assordimento di farmaci e parafarmaci un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali omeopatici e fitoterapici prodotti per l'infanzia calzature, dermocosmesi make up, idee e regalo igiene, nutrizione, sport, veterinaria reparti curati con passione e massima professionalità vienici a trovare in via nazionale guardia 196 a Daci Reale si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni compresa la domenica Matt Matt che fu che è successo? aiuto io chiede mi montassero già tutto così e io pensavo che stavo sognando ma questa è realtà questa è magnificenza è un sogno la Sicilia la Sicilia Traslochi smontiamo, rimontiamo, imballiamo trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi viaggi settimanali da e per il nord copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro ma dove vai se la Sicilia Traslochi non ce l'hai stasera al teatro tutti i mercoledì sera ore 21 e 10 rassegna a cura delle compagnie teatrali locali stasera al teatro in onda tutti i mercoledì sera in prima serata ore 21 e 10 in replica il venerdì pomeriggio ore 16 e la domenica alle 23 su Etna Channel Parliamo di calcio calcio di serie D in primo piano il derby Paternò a Cireale la Cireale che spegne la luce e cade anche a Paternò quarta sconfitta stagionale che chiude definitivamente il capitolo promozione diretta e forse anche la corsa al secondo posto una Cireale dai due volti raccoglie a Paternò l'ennesima occasione mancata di questa stagione con la cavese fermata in casa dal Sant'Agata e Granata riescono a fare di peggio facendosi battere dai padroni di casa con un secondo tempo che lo stesso De Sanso si trova costretto a definire il peggiore da quando sono a da Cireale difficile spiegare la trasformazione di una squadra che nel primo tempo era sembrata in perfetto controllo della partita e che una volta subito il gol dei rossazzurri si è squagliata come neve al sole facendo emergere una fatica che più che fisica per le troppe partite radvicinate giorni è apparsa soprattutto mentale e tanto più preoccupante in vista della roulette dei playoff il primo tempo è di totale dominio Granata apre le ostilità capitano Savanarola che di testa non riesce ad angolare ancora Savanarola questa volta in versione uomo assist cerca sul palo opposto correnti ma il colpo di testa risulta ancora una volta centrale il paterno sta a guardare e cerca di colpire in contropiede con l'attivissimo Fichera che però chiude troppo il piattone e mette la palla solo sull'esterno della rete l'occasione più ghiotta per passare è però dei Granata film degli orrori nella difesa paternese palla che arriva a Savanarola che scocca un diagonale che centra il palo il primo tempo si chiude sullo 0-0 e con la sensazione che l'11 Granata non abbia espresso il suo pieno potenziale che abbia conservato le poche energie a disposizione per accelerare nella ripresa e tentare di fare solo la partita il dominio Granata è espresso nei numeri dei corner 5 nessuno sfruttati in maniera decente contro 0 conquistati dal paterno invece in apertura di secondo tempo succede l'inaspettato sul primo corner per i rossazzurri il litigioso Dama protagonista nell'intervallo di un brutto gesto nei confronti di un giocatore Granata non visto dall'arbitro svetta più in alto di tutti e castiga l'incolpevole D'Alterio il gol ospite spegne la luce in casa Cireale salvo un tentativo di risposta immediata sui piedi di correnti e la tele ribatte in corner la squadra di De Sanzo va in stato confusionale sbagliando le cose elementari e concedendo spaventose ripartenze ai paternesi Rizzo ha D'Alterio battuto e c'entra la testa di un difensore Granata sull'altro fronte Lemura ci prova con un tiro a giro che si spegne non molto lontano dall'incrocio dei pali di Latella ma è più pericoloso il paterno con la stoccata di Rizzo che chiama D'Alterio alla risposta in corner l'unica cosa che produce la Cireale nel suo forcing finale è un tentativo alto del neo entrato Tunkara finisce così 1-0 con il paterno che festeggia in campo come se avesse vinto il campionato e i Granata che vedono scivolare via anche la possibilità di conquistare il secondo posto adesso finalmente la Cireale potrà usufruire di una settimana piena per poter recuperare energie fisiche e soprattutto mentali così da potersi presentare nelle migliori condizioni domenica contro un Sant'Agata già matematicamente quinto per provare a blindare il terzo posto e poi cercare l'impresa a cava nel tentativo di giocarsi agli spareggi di alta classifica dalla miglior posizione è possibile Torna al successo invece il Giarre per i Giallo-Blu tutto facile a Biancavilla La lotta per non retrocedere insieme al Biancavilla dalla Serie D è ancora calda grazie soprattutto al 4-1 con cui il Giarre batte a domicilio proprio la squadra catanese un risultato che matura nella prima mezz'ora di gioco e che tiene aperti i giochi della griglia play-out con la matematica che ancora dai giallo-blu di Gaspare Cacciola buoni alla salvezza diretta il classico 4-3-1-2 Giarrese trova il gol già dopo 50 secondi cross di Arcidiacono e spizzata vincente di Ivan Agudiak qualche minuto e segna anche l'altra punta Cannavò anche questa volta l'assistenza vincente è di uno scatenato Arcidiacono al dodicesimo si fa vedere anche il giovane Biancavilla ma Musso sfiora soltanto e para facile Giannini il tris del Giarre arriva al ventunesimo angolo corto tra Limonelli e Cocimano Limonelli mette dentro un pallone che arriva ad Arcidiacono che di punta trova un meritato gol le emozioni però non finiscono e i padroni di casa vanno in gol con una bella punizione dal limite di Licciardello nella ripresa il copione non cambia con Cocimano che è il più attivo nel continuare a provare la conclusione vincente la trova finalmente al settantunesimo quando trasforma l'ennesimo assist di Arcidiacono in un lento e preciso colpo di biliardo che vale il poker vittoria meritata del Giarre che come detto alimenta le speranze matematiche di una salvezza diretta ma soprattutto la consapevolezza di poter ambire la migliore posizione in caso di play out per rimanere così un altro anno in Serie D vediamo cos'è successo invece anche negli altri campi della Serie D in testa la Gelbison è ormai ad un passo dalla promozione la corsa alla Serie C nel girone di Serie D potrebbe essere stata decisa ieri la vittoria della Gelbison il pareggio della Cavese la sconfitta della Cireale sono tre risultati decisivi soprattutto per la capolista che con la larga vittoria di ieri sulla San Cataldese per 4 a 0 taglia fuori matematicamente la Cireale dal primo posto e allunga più 4 sulla Cavese insomma potrebbe già festeggiare domenica prossima a Troina gara senza storie quella tra i campani e i siciliani a sbloccarla ci pensa l'ex Cireale Sparacello che sfrutta l'errore di Canino si presenta davanti al portiere ospite e lo batte senza troppi problemi 10 minuti più tardi Graziani fa tutto bene salta un paio di avversari entra in aria e con il sinistro fa 2 a 0 nella ripresa il copione non cambia angolo liberato male dalla difesa ospite con la palla che arriva a Fornito che di sinistro trova l'angolo giusto e firma il tris nel finale arriva anche il poker Faella scappa in contropiede calce e trova la risposta del portiere sul pallone vagante arriva però Coris che fa 4 a 0 pareggio a reti bianche tra Cavese e Sant'Agada con i campani che vedono allungare forse definitivamente la Gelbison in vetta ma guadagnano un punto sulla Cireale i messinesi invece festeggiano la qualificazione ai playoff di Serie D sconfitta di misura per la Cireale sul campo del paterno Granata ancora in corsa per il secondo posto Rosso-Azzurri che invece ritrovano la vittoria dopo più di due mesi decisivo il colpo di testa di Dama sui sviluppi di un calcio d'angolo 5 a 0 secco della mezza che travolge il malcapitato Trapani e spera ancora nel terzo posto Granata che invece rimangono al dodicesimo gara subito in discesa per i Lamettini che la sbloccano con la zampata di Magna Vita su assist di Corapi da calcio d'angolo passano 7 minuti e arriva il raddoppio Maimone crossa dalla destra sul primo palo per Abercon che di prepotenza insacca il 2 a 0 il Trapani non gioca e nel secondo tempo i Lamettini ne approfittano amendo la crossa dalla destra il pallone complice una deviazione si impenna e Recchia lo intercetta dentro la propria porta ancora la mezza con Bezon che approfitta di una respinta corta e trova il gol del 4 a 0 nel finale arriva anche un calcio di rigore per un fallo di Galfano su Amendola dal dischetto Vabbollino che firma la cinquina sconfitta esterna per il Cittanova che cade 3 a 1 sul campo delle Re alla Versa e dice addio alle residue speranze playoff a passare in vantaggio sono però i calabresi con questo grandestro di Biondo suo assist di Savasta che sblocca la gara nella ripresa il Re alla Versa ribalta la gara il pareggio arriva sul calcio di rigore per questo intervento scomposto di corso su Strianese dal dischetto Valla Monica che fa 1 a 1 il raddoppio lo firma ancora alla Monica sul suggerimento di Cavallo controllo in aria e girata vincente per il 2 a 1 poi il bomber di casa si travesse da assist e serve a Chianese il pallone del 3 a 1 mancino perfetto che si spegne all'angolino basso vittoria agevole per il Giare che sbanca Biancavilla 4 a 1 scavalca il Castro Villari e sale a quota 33 insieme al Rende partita già decisa nel primo tempo pronti via gli ospiti passano cross dalla sinistra di Arcidiacono per Agudiac che di testa trova il palo lontano e ancora Arcidiacono ad ispirare il 2 a 0 che arriva ad opera di Cannavò con un colpo di testa da distanza ravvicinata prima dell'intervallo arriva anche il Tris Limonelli sfonda sulla destra e serve a rimorchio Arcidiacono che in stile futsal di punta trova il 3 a 0 il Biancavilla dà segnale di vita con la punizione di Ricciardello che sorprende Giardini sul proprio palo e fissa il punteggio sul 3 a 1 nel finale di partita poi Arcidiacono imbecca a Cocimano che controlla e davanti al portiere di casa non sbaglia 0 a 0 tra Licata e Troina con il Licata che rimane al settimo posto mentre il Troina è in penultima posizione vittoria esterna delle Rende che sbanca Portici 2 a 0 e aggancia il Giardini a quota 33 rinviate per impraticabilità di campo la sfida tra San Luca e Santa Maria Cilento turno di riposo infine per il Castro Villari e intanto il Santa Teresa arriva sogna la Serie D dopo l'impresa della Ionica che è chiuso al secondo posto e chiusa al secondo posto della regular season del torneo di eccellenza Giron e B approda alle fasi nazionali riuscendo a strappare il 2 a 2 contro la più quotata Igea Virtus domani maggiori particolari su questo match per ragione di spazio nelle altre partite dei campionati direttantistici il Cala Tabiano salva la categoria superando 3 a 0 la Don Bosco nei play out di promozione Arachiri invece del riposto in prima categoria che si arrende in casa 1 a 0 al Sant'Alessio e così il Sant'Alessio a salire in promozione in terza categoria il Mascale si fa fermare sull'1 a 1 in casa dalla puntese vede allontanarsi il primo posto adesso distante 5 punti e adesso parliamo invece di basket calcio a 5 e pallavolo con la grande impresa della Saturnia AC Castello vince il via grande lo fa in maniera netta più di quanto dica il punteggio e vole in finalissima play off gara senza storia quella di sabato all'interno di un pallavolcano e gremito per l'occasione gli Etnei partono con il piede giusto e sbloccano la gara dopo pochi minuti con un gran gol di Sciacca gli ospiti provano la carta del portiere di movimento ma questa si rivela un'arma a doppio taglio e regala 3 gol in rapida successione alla formazione di casa all'intervallo si va quindi sul 4 a 1 nel secondo tempo il copione non cambia gli uomini di Mister Scandura non mollano la presa e sugli agli dell'entusiasmo dilagano nel punteggio gli ospiti nel finale provano a rientrare in partita ma la difesa bianca-azzurra riesce a reggere e al triplice fischio esplode la festa sabato 14 maggio in campo neutro il via grande si giocherà la promozione in serie B di fronte ci sarà il Villauria che ha vinto i playoff nel girone A un ultimo passo verso il sogno chiamato serie B in serie C2 girone C vittoria di misura per la Sicil Grassi che sbanca Nicosia 6 a 5 e mette in cassa forza il secondo posto un gol negli ultimi minuti permette agli accesi di mantenere il secondo posto che sabato 21 maggio al Palavolkan si giocheranno la promozione senza esclusione di colpi quella di sabato che ha visto il Nicosia tenere testa la seconda forza del girone per tutta la gara nel finale però il gol di Raciti e basta un secondo posto prezioso in vista della finalissima playoff in programma tra due settimane vince e chiude con una vittoria il proprio campionato la Stella Rossa che regola 8 a 3 il Siracusa Meraco e chiude la stagione al sesto posto mancando per un punto i playoff accesi sempre in controllo nella gara di sabato con gli ospiti quasi mai pericolosi in zona offensiva adesso qualche settimana di riposo dopo la quale si potrà pensare a programmare la prossima stagione nel basket femminile vittoria in trasferta per la Rainbow Via Grande che in gara 3 alla meglio dell'Eva Team Ragusa e vola ai playoff nazionali di serie B 70-66 il punteggio in favore della formazione ospite che è riuscita a mantenere la testa avanti nel punteggio per gran parte della gara i primi due periodi vedono le Via Grandesi partire meglio ma le Ible reagiscono e chiudono all'intervallo sotto di 5 punti il terzo quarto è quello decisivo dopo un parziale ospite Ragusa rientra in maniera decisa in gara e la riapre gli ultimi 10 minuti sono ancora più equilibrati Via Grande rimette la testa avanti Ragusa non molle e si arriva sul 66 pari nel finale però a premiare la formazione ospite sono i tiri liberi segnati da Lombardo e Steino che consegnano una vittoria preziosissima alla propria formazione infine spazio anche alla palla a volo con la Saturniaci Castello che in gara 2 vince sul campo di Macerata e si guadagna l'accesso alla finale per la promozione in serie A2 un match avvincente quello che ha visto trionfare la formazione ospite capace di andare in vantaggio per 2-0 per poi farsi rimontare e arrivare al decisivo quinto set ed è proprio in questo set che la Saturnia dopo essere andata in svantaggio di tre lunghezze rimonta fino all'11 pari e chiude la pratica sul 17-15 con il muro decisivo di Frumuselu domenica dunque la Saturnia affronterà in trasferta a Grotta Azzolina per gara 1 della finale promozione in palio ci sarà il salto di categorie in serie A2 andiamo a chiudere lo facciamo con le previsioni meteo per domani cielo poco nuvoloso non sono previste piogge le temperature massime si attesteranno sui 20 gradi le minime sugli 11 gradi i venti saranno moderati il mare poco mosso grazie per essere stati con noi TG Reporter torna domani a partire dalle 13 e 40 buon proseguimento di serata grazie per la visione